Ciao ragazzi a tutti sono Ian, bentornati in questo nuovo episodio da League of Learning Bentornati qua con un altro di Kerry, ovvero la signora Caitlyn Una rapida occhiata alle rune, spero che il microfono vada bene Ripeto scusatemi se ve lo ripeto ogni giorno ma E' nuovo, c'è da settarlo, tutto quanto Allora ragazzi, la signora Caitlyn Qualche season fa, cioè non scusate, qualche mese fa Parecchi mesi fa Era uno dei di Kerry più forti del gioco La piccavi o la bannavi perché era troppo forte Poi gli hanno fatto una serie di nerf che l'hanno abbastanza uccisa E poi una piccola serie di buff che l'hanno riportata più o meno in zona equilibrata Quindi è ancora abbastanza buona da giocare Non è il meglio che si può avere Però non è per nulla male Io considero, almeno io Io considero Caitlyn uno dei di Kerry più bilanciati del gioco Cioè non più bilanciati, più duttili, più versatili, più completi Perché lei ha tutto quanto Lei ha wave clear, lei ha alti danni, lei ha alto range Ha modo di escape, self peeling, cc Ha tutto ragazzi, ha tutto quanto Solo che ci vuole una bella manina per giocarla Insomma non è tutta rose e fiori Dovete comunque giocarla in modo abbastanza buono È un ottimo counter per Per quei, per quei, gli ad-carry che hanno poco range Tipo, tipo Twitch, Vayne Twitch, Vayne Se non sbaglio anche Xai Non so, perché non mi ricordo quale sia il range di Xai Non me lo ricordo Se devo essere sincero È un bel bullying lane perché Grazie al suo range altissimo Il più alto di tutto il gioco Almeno nei primi livelli Perché poi Tristana per esempio L'out range Dopo, se non sbaglio, 8 o 9 livelli Al momento non mi ricordo E anche Jinx nel caso usasse i razzi E la Q Dovrebbe out rangearla Però Su tutti gli altri ha Per tutti gli altri ha il range più Letteralmente il range più alto del gioco Aia Aio Ha il range più alto del gioco Io devo andare in base Perché sennò questa qua mi Comincio la lane in modo merdoso Mi ha fatto malissimo karma Non ho sinceramente idea di come sia lane in phase Con karma Penso che Mi darà un po' al cazzo Perché Che te dovrebbe soffrire un pochino I support che Che curano E che danno Che danno shield In teoria Quindi Potrebbe essere un po' me È forte Ripeto è forte Contro Contro magari tank Che ti ingaggiano Perché con la E Avete un ottimo modo per scappare Se avete buoni riflessi Però boh Contro 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 magari champion Che Ehi venite qua Contro magari champion Che scuda Che tirano scudi E cure Forse non è buonissima Allora Prima cosa che devo dirvi La passiva di Katelyn È Il suo headshot Settamente ogni sei colpi Ogni sei colpi Due Se si vengono contati doppi Se siete nel cespuglio Ogni sei colpi Lei tirerà Un attacco potenziato A A range più alto A range più alto No 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 Non range più alto Ma che farà Un bel po' di danno in più Se siete Se non siete nei cespugli Conta uno solo Se invece Siete nei cespugli Come avevo fatto vedere prima Tipo così Come potete vedere Conta due Quindi Se mi avete visto prima Andare nel Andare nel cespuglio Ed out Attaccare Il red Di Mi avete visto Attaccare il red Del nostro Jungle Del cespuglio Perché volevo fare Volevo proprio Per prendermi più Più cariche possibile In modo tale Da aiutare sia lui Che buildarla A me stesso In modo tale Da Velocizzare il tutto Utiliziamo la E Abbiamo fatto il 2 Prima di lui Lei Quindi qua La pestiamo Ok Ora facciamo così Così Ok Allora Questa che vi ho appena Fatto vedere È una delle combo Più forti Di Di Caitlyn Si usa Sia per attaccare Come avete visto Sia per Andare Andare back E pilare Sia per andare back E pilare Qua Facciamo sentire la nostra presenza Dovete giocarla Molto molto aggressiva A Caitlyn Infatti è buona con Xerath Sinerizza abbastanza bene Con Xerath A dire la verità Lei sinergizza bene Un po' con tutti Cioè Se devo proprio essere sincero È una di Carrie Che sinergizza molto bene Con tutti Per quello Ripeto Che secondo me È molto molto bilanciato Comunque La sua Q Un attimo Passo a rispiegarvi Tutti le spell La sua Q È semplicemente Uno skillshot lineare Che fa meno danni Se passa attraverso L'unità nemiche No Ho più danni Oddio non mi ricordo Dovrebbe fare meno danni Se passano Prima dalle unità nemiche E comunque Di danni ne fa E questo è il vostro Strumento di wave clear È il vostro Strumento di wave clear Ora guardate bene cosa faccio La W Sono le sue trappoline La W in modo offensivo Bisogna metterle qua Perché in questo caso Noi tagliamo fuori Tagliamo fuori La mobilità Sia al support Che a Che alla di carri nemico Perché se per sbaglio Si mettono qua Noi li tireremo Un bel headshot In testa Ecco vedete Ok ora non ce l'ho fatta Però Perché ero troppo lontano Perché ero troppo lontano Comunque Si avvicina ancora un pochino Ora noi Non frizziamo la wave Perché non abbiamo bisogno Di andare avanti Aia Aia Che male E ogni volta Che un nemico Orco 2 Che danni Ogni volta che un nemico Pesterà Una trappola Avremo L'effetto Della passiva Ovvero del headshot Farà un danno più Un danno più forte A un range Molto molto più alto Quindi è bene Piazzare le trappole A seconda di come volete Di come volete Giocarveli in face Volete giocarveli In modo difensivo La piazzate Poco prima della vostra torre Nel caso siete Siete sotto torre Ma dubito che succederà Perché Caitlyn è un È una di carri Che vuole Vuole pushare Vuole essere dominante I lane in face E quindi Difficilmente Difficilmente Lei sarà Sarà sotto Sotto tono Rispetto agli altri Alle altre lane Difficilmente Oh può succedere Per carità Ci si adatta Però nel caso Nel caso non succeda Come dovete vedere Mettiamo Molta pressione Mettiamo trappola qua Ne mettiamo una anche qua E ora lei Loro sono costretti Per forza A subirci Sono costretti a subirci Uh buona Bella questa Molto buona Sono costretti a subirci Quindi mantenete Sempre il controllo Della lane Con Caitlyn ragazzi Se potete Qua abbiamo un support Che fa il nostro stesso lavoro Ovvero Wave clear E ci dà Un sacco di Cosa fa Nidalee? Nidalee? Ci dà Ottime possibilità Di ripeto Di tenere la lane sotto controllo Guardate la differenza di minion 36 a 22 Ed è ottima Dopo un po' Ovviamente le trappole scompaiono Durano 30 secondi E ne posso Prendere solo 3 Alla volta E vorrei Avvero Need Ho bisogno di 100 gold Perché vorrei tornare con Con la BF Se riusciamo ovviamente No 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 Non recalla amico Piuttosto ci muoio ma Voglio tornare Assolutamente con Assolutamente con 100 Con 100 gold in più Perché è troppo importante Ai fini del Oh porca puttanofera del cannone È troppo importante Ai fini di quello che voglio fare Tornare e prendere immediatamente La BF sword Allora La E La E sua come funziona? Molto semplice Anch'esso uno skillshot Colpisce il nemico Lo rallenta E ci dà l'effetto Del headshot Praticamente Quasi tutte le spell No non quasi tutte Sia W doppia che Danno l'effetto Del headshot Su Katelyn Ed è questo che lo rende Veramente forte Perché Come vi ho fatto vedere prima Io ho fatto Qua su Su karma Quando ho dovuto usare Leal Exaya Ho fatto autoattacco E autoattacco Q Questa è la sua combo È la sua combo spaziale Per fare dei danni Della madonna Potete usarla Sia in modo offensivo Anche se è un po' Meno efficace Ma soprattutto In modo difensivo Perché se uno Un attimo Se uno vi sta Vi sta Ceisando Voi utilizzate E autoattacco Q Mettete trappole Mettamente sotto di lui Perché sarà rallentato Colpite e fatte Praticamente due headshot E facendo due headshot Nessuno sopravvive Letteralmente Nessuno sopravvive Facendo due headshot Allora in questo caso Vedete che stiamo Un po' subendo Il loro push No? Aia Stiamo subendo Un po' il loro push Non metterò trappole Perché non ne ho bisogno Abbiamo bisogno Di riprendere il controllo Della lane però Perché Perché si Metterò una trappola qua Non si sa mai Che magari la pesti Zera Ho bisogno di te Qua Un headshot Gratis Lo potevo anche fare Ma è colpa mia Perfetto Facciamo così Utiliziamo di nuovo La Q Colpiamo magari anche lei Perfetto Qua abbiamo di nuovo Noi il controllo E ci rimettiamo Ho spaccato un po' di ward Ci rimettiamo Di nuovo Come prima A piazzare Le ward Si le ward Oh cazzo Cazzo Warwick Inoltre siamo safe Ok Forse flash Non me la sono sentita Non me la sono sentita Perché poteva flashare Poteva flashare Poteva Slowarmi Cioè Firarmi Non me la sono sentita Uh bello Non me la sono sentita Quindi Un flash un po' Forse troppo Ma Secondo me Ci stava Perché Warwick Warwick Poteva benissimo Fare flash Stun Cioè Fir Scusatemi E Loro potevano completare la kill E non volevo scusersi Perché Come potete vedere Io voglio che questa torre Cada immediatamente Se prendete la torre Subito Instant La linea è nostra Mi lasci solo gold Ah La passiva si applica Anche alle torri Questa è cosa Molto buona Io vorrei pusharli anche questa Perché Se li pusho anche questa È rischioso Ma interior warwick Non dovrebbe essere qua sotto Se li pusho anche questa Noi possiamo tranquillamente andare top Lasciare wukong bot lane Noi ci prendiamo la torre top lane Perfetto Trade wukong Ci prendiamo la torre Top lane E wukong potrebbe in teoria riuscire a farmare safe bot Allora Perfetto Ora andiamo back Non mi completo subito l'infinity edge Ma mi faccio lo zial Anzi 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 Visto che stiamo andando in giro adesso Io mi faccio direttamente le berserker Per avere un po' più di Un po' più di Come si dice Un po' più di velocità E nel caso mi vogliono ingaggiare Dovrebbe riuscire comunque a reggere Ora andiamo top lane Kong xerath Kong Xerath Wukong Gobot Allora perché si fa questa cosa Perché si fa questa cosa Perché In questo modo Noi due Io e xerath Che siamo Fiddati Possiamo tranquillamente reggere Ma ok Perché siamo in due E lui ha un melee E E E lui può farmare bot lane Tranquillamente Ora appena arriva xerath Doveva seguirmi immediatamente Non mi ha seguito Questa è un po' una merda Ok Facciamoli un po' di danno Urrr Tensione Ai ai danni del gattino Ho fatto malissimo Ok Stiamo molto attenti Non ho la e Se non avete la e Non è buono andare Troppo avanti Perché non avete nessun modo di scappare Non avete nessun modo di scappare Appena posso vi faccio vedere la combo Combo completa Da fare Come Come l'ho fatto vedere prima Ma un po' più elaborata Il principio è lo stesso Solo che Solo che la fate in maniera La fate in maniera difensiva Ed è Ed è più carina Dov'è le blanque? Questa è quella vera? È quella vera? Sì era quella vera Peccato Se la prendevo quella a cubo Potevo ultarla Ah la ultimate è È un semplicissimo Skillshot Pure quello Cioè scusa che cazzo dico Non è uno skillshot È un punta e clicca Che Però Viene intercettato Viene intercettato dai Dai nemici Quindi Non è che potete usarla Proprio sempre sempre Qua la stiamo tenendo noi la lane Qua la vinciamo noi Ok Se lei si Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ok Allora qua me la sono giocata benino Perché io sapevo Sta morendo botland però Vabbè c'era C'era warwick Peccato Io sapevo che Sapevo benissimo che Che le blanque avrebbe Sarebbe tornata di là E quindi ho puntato la E Per poterla Sia rallentare Sia rallentare che Che poi poterla colpire Subito dopo Torniamo top lane Intanto non andare a morirci il tipo Qui purtroppo erano in due E non è che potevo fare la combo di difesa Su maokai E poi farmi shottare da Da Dalle blanque Sì in realtà potevo semplicemente puntare qua E fargli la full combo E forse moriva E forse moriva Però poi mi avrebbe preso maokai Quindi sarebbe stato useless Perché Xerat mi dicevi andare Beh che tu dovresti andare con me Tu dovresti andare con me Quindi non capisco perché te ne stai andando Noi ce la facciamo benissimo Ma teneremo ok Cioè la torre la teniamo giù Quindi Non capisco perché Xerat Non voglia venire con noi ma Questo è un po' un problema Perché io ho bisogno Del supporto Non posso stare qua da solo Cioè ma va bene pure stare da solo Per carità Però li faccio 50 Wow Li faccio letteralmente 50 I need support Ok Avrei bisogno del mio supporto Perché senza di lui Posso far un cazzo Boh provare a chiamarlo Provo a chiamarlo Comunque la ulti va usata Se riuscite all'inizio del team fight Non va usato dopo Perché tutti quanti possono intercettarvela Quindi se la sparate magari a un bersaglio Che ha poca vita Semplicemente magari il suo supporto O un compagno a caso Ci si mette di mezzo E ve la nullifica Se invece la usate all'inizio del fight Se magari trovate fuori posizione Un carry La usate E prima di iniziare il fight Vi fate un sacco di danno E in questo modo riuscite a A sfruttarla in modo migliore Perché È difficile che Riuscirete a usarla Ok maokai se ne va Buono Io pusho qua Allora io lo so che Ok Perfetto R in due La torre l'ho tirata giù Praticamente da solo Riesco forse a farmi subito l'infinity In teoria vorrei farmi Prima la static ship Che l'infinity Perché Allora Prima Prima che c'era l'hardent meta Tutti gli ad carry Si lasciavano l'infinity Edge Perché non avevano bisogno Di ulteriore attack speed Visto che L'attack speed Lo dava l'hardent Ma Ora che non siamo più In ardent meta Fare bf sword Static ship Static ship per lei Ovviamente È meglio È proprio quello che farò Perché ci dà Attack speed Ci dà critico E ci dà la passiva Ovviamente della Static ship E E anche un po' Di velocità di movimento In più Che schifo non ci fa Siamo al 9 Prendiamoci il trinket blue Ho preso anche la torre top Torre top lane Ora La torre botta è caduta Vado a farmare un po' botta E poi si ruota Si ruota mid Per prendere qualche obiettivo In teoria dovevamo farci questo È stata un po' sballata Sta cosa del Roaming Cioè Xerath mi ha abbandonato Se ha fatti i cazzi sua Va bene Cioè va bene mica tanto Continuo ad abbandonarmi Però Vabbè Xerath non è Uno di quei support Che dici Vabbè Sempre con me Ti difende Un support aggressivo È ottimo Il lane in face Perché mi ha Mi ha permesso Di andare così tanto avanti Quindi Non è stato brutto Come support Però Diciamo che Caitlyn se la cava meglio Con un supporto Che magari L'aiuta un po' O che le fa Un hard engage Come leona Blitzcrank Trash Blah 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 Oppure che Che la pili Tipo Lulu Gianna Eccetera eccetera Comunque ripeto Lei va bene Assieme a qualunque supporto Che abbia un cc Perché Appena Il supporto Vi fa un cc Oh porca puttana No 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 Appena un supporto Aiuto Appena un supporto Vi fa il cc Voi mettete Inmediatamente la trappola Inmediatamente la trappola Sul bersaglio Stunnato Tirate l'headshot Poi tirate di nuovo La E Un altro headshot Q out attacco E sciogliete Qualunque tipo di bersaglio Ok Eh Eh Messo che non vivrò mai Aiuto Aiuto Ok qua lo tiriamo l'ultimo Giusto per fare un po' di danni Eh Anche se l'ho fatta sul tank Ma No 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 Sbagliato 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 Pensavo Pensavo vincevamo Invece abbiamo perso di brutto Eh no Sei kill a Xayah Questo è brutto Da far schifo ragazzi Avete fiddato così tanto La di carry nemico Questo è orribile I'm pretty fucked You fed Xayah Allora Adesso il problema è Adesso il problema è Che Il loro di carry Fiddatissimo E io no Quindi io sarò sempre Inferiore a lei Nonostante La mia lane phase Ancora Nonostante la mia lane phase È stata nettamente superiore E questo è un grosso problema E questo è un grosso problema Perché adesso Sapete cosa Cosa faremo Inizieremo a fare l'aram E L'aram non mi beneficia Ok Eh no Mi dispiace Non riesco Non riesco ad aiutarti Prima di fare qualcosa Ho bisogno di avere L'infinity edge Prima di fare qualcosa Ho bisogno di avere L'infinity edge Infinity edge Poi mi farò Probabilmente mi farò Una blood tearster Qua Perché Loro mi Mi saldano tutti addosso Ho bisogno di un po' di life steal Assolutamente Ho bisogno di un po' di life steal E ho bisogno però Di un supporto Che mi aiuti Ho bisogno di un po' di peeling Perché Cioè ok che Posso farmi peeling da solo Ma Non così tanto Non così tanto peeling da solo Andiamo a botten Ci prendiamo anche la wave lì L'interno dovrebbe andare Anzi L'interno dovrebbe andare Zed Devi andarci tu Ci devi andare tu botten E tu mi devi dare una mano Tu mi devi dare Assolutamente una mano Mi devi dare assolutamente una mano Ok Allora farmi un cile Way più che possiamo Stando sempre attenti Mettiamo Trapolino mi sembra un po' inutile Ora Stiamo attenti a Siamo attenti a farmare bene Perché C'è le blanche Ecco Come dicevo prima Se non ho un supporto Che mi aiuta Io non posso fare un cazzo Io ho bisogno di un support Che Può pilare Self pilare Fino Fino a un certo punto Però Se Xerath continua Imperterrito Ad abbandonarmi Perché Vuole farle kill Io Cioè Mate I need Your help Xerath You can't leave me alone Cioè Non puoi lasciarmi da solo Non puoi lasciarmi da solo Perché io ci schioppo Come un bastardo E questo è il motivo E questo è il motivo Per cui Ora Odio avere Uno Xerath supporto Perché A parte far danno Non fa A parte far danno Non fa Però beh Zed sta tirando dritto Bottling Vediamo di riuscire a dargli un po' di pressure Allora se io Ulto questa Lei Dà lo scudo Quindi è una merda Però Magari Proviamo Vediamo cosa combiniamo Ok Peccato per l'ultima Tiriamo dritto Non so dove le blank Non so dove le blank Vorrei saperlo C'è Mo'Kai che ci sta caricando Avrò bisogno più presto Di qualcosa per Mo'Kai Comunque Ok Andiamo back Vado a prendermi il red Fatemi prendere il red Per favore Visto che tu ce l'hai già Lascialo a me Spero che me lo lasci Ok Grazie mille Max ho le trappoline Perché ne potete piazzare di più E durano di più E fanno anche più danno Fanno anche più danno E contate che Tutto il vostro danno È basato sugli headshot Ovvero su Sulla vostra passiva E più le aumentate Meglio è Allora dovremmo far qualcosa Dovremmo tipo Piazzare un po' di ward Magari in giro Allora guarda una cosa Quando voi state prendendo tipo il baron È ottimo fare così Mettete le trappoline in questo modo Così se loro vogliono passare Qua non possono passare Perché c'è la La trincea Questo se volete fare degli obiettivi Potete farlo anche qua Al drago Metterla qua O mettere da qualunque parte In cui volete Tagliare la ritirata ai nemici Però Non capisco perché V con uno split Ti bottele E non mi lasci il farm Però vabbè Non me lo sto neanche a chiedere Io vorrei andare back Perché c'ho C'ho l'infinity edge Lei Lei ha un botto di kill Però io ho farmato meglio Per fortuna E quindi un po' Le sto ancora dietro Prendiamoci una pink Che schifo non fa Apparamente ci muore Ok Non c'è morto Potremmo gruppare In questo Adesso Potremmo gruppare E fare qualche pick Group and pick someone Dan Baron Mi sembra un'ottima idea Ora all'infinity Farò parecchio danno Però mi sa che mi farò Il last piece per subito E non è un Non è buono Cioè È buono Abbiamo Teoricamente La loro front line Che Composta da Warwick E Mokai Mi arriverà sicuramente addosso E mi farà male E io non li farò un cazzo Perché sono entrambi Tancosi Cioè Non è che abbia così tanto danno Adesso Sì ho l'infinity E faccio danno Per carità Però Non gliene faccio usando Quindi boh Un last piece per io Me lo metterei pure Ora vediamo Vediamo se magari prendo qualche kill Mi faccio un bel po' di gold Bravo Zed Questo è ottimo C'è l'inferno tecnone da fare Questo qua Ci sta Ingrave sto cosa Ok Perfetto Non possiamo fare nulla Non ci sono obiettivi C'è il Baron Ma orca potana I danni Mi serve un live steal Ci sarebbe il Baron Da fare ma Non possiamo Sono Sono vivi in quattro C'è le blanche da qualche parte Non mi fido io Peccato È morto È morta Sai ma non riusciamo a fare un cazzo Cioè la wave top è pushata Dovevamo andare lì in effetti Scusate La wave top è pushata Quindi Sarebbe stato buono andarci Per favore fammi farmare Che è più utile per me Che per te No mi faccio live steal Comunque Niente last ways Però ho bisogno di Di live steal Sia per Sia per Per cosa Come si chiama Per Uffa Non mi viene in mente Per i danni che mi fanno Sia per karma Che mi tira dalle botte Allucina Madonna Madonna Ok Arriva Warwick da me Non penso di poter fare nulla Madonna sto gatto Eh non posso fare nulla Sono troppo morto WTF Dai WTF Ma dai Me l'ha portato addosso Che merda Madonna Che merda La Q di Warwick La Q di Warwick È una merda Letteralmente Una merda La Q di Warwick È una merda Totale Sta cazzo Di Eh Nessuno può farmi Sì Mi farò la botte A questo punto Visto che così Almeno mi dà un po' di live steal Che merda Che merda Che merda Cioè avete visto Avete visto Avete visto Che merda Cioè Warwick ha usato la Q Non mi ricordo neanche chi Lui ha flashato E me l'ha portato dietro E quindi Mica ha chiuso Non potevo fare un cazzo Dunque Hanno ragione Che ho bisogno Di armor penetration Ma il problema È che non ho nessuno Che pila per me È senza live steal Sono nella merda Quindi ho bisogno di live steal Ergo mi devo fare La blade of the ring king Che ha il doppio scopo Di darmi live steal E di E di aiutarmi con E di aiutarmi con Con live steal Sì Lo voglio dire Con l'arm of pen Scusatemi Quello che a me non sta bene È che Va benissimo Che Che Zed splitti È quello che deve fare Non va bene Che Vukon Stia con noi Perché Vukon Non deve stare con noi Vukon deve splittare Vukon deve splittare Non deve stare con noi A rubarmi ogni secondo Il farm Perché altrimenti Io non faccio un cazzo Ho bisogno assolutamente Di farmare Comunque boh Stiamo facendo sempre Fight a cazzo Dov'è? 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 Wow Ok Ok Vukon si prende un po' di gold Noi abbiamo una team con Molto fragile E anche un tank Loro ad engage Sì ci spaccano Quindi dobbiamo giocarla Dobbiamo giocarla stra bene Altrimenti Prendiamo 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 le mazzate Diciamo C'erano stati in con Fa schifo Cioè rispetto a loro Fa schifo Nessuno che pila per me Nessuno che Non possiamo fightare Comunque C'è Vukon Give Vuk Pressure Però di contro Abbiamo molto Molto poca Vorrei prendermi il red Però non posso Di contro Noi pochiamo Molto più di loro Ok Vado a prendermi un attimo Red Veloce veloce Alla botta Che mi manca 2150 Mi manca ancora un casino Questo è quello che dovreste fare ai nemici In teoria Ve lo fate vedere su red Però Però questo dovreste fare Le blank shot 13 kill Io sono ancora da solo Un per l'ennesima volta Non so perché stiano facendo questa merda Loro Davvero non so perché lo stiano facendo Allora Piazziamo qualche trappola Giusto a difesa Ok Wefriamo Level anche troppo grossa Sarà un problema per me Lei Proviamo a mettere Tutte le trappole qua Ok In questo modo Non dovrebbero rompermi troppo il cazzo Cioè Devi pestarla per forza Una Io volevo anche farmi il rapid fire cannon Che è molto buono Urca 2 Eh niente Non riesco a difenderla Una cosa che posso fare Una cosa che posso fare Z probabilmente ci muore pure Ma infatti Eh vabbè È difficile ve l'ho detto Bravo Buono Ah ha beccato la mia trappolina Ottimo Ok Ok È difficile ma non impossibile È difficile ma non impossibile L'è difficile ma non impossibile Ho bisogno assolutamente di armor penetration Il rapid fire cannon Non voglio farmelo Perché aumenta ancora di più il range E mi Tipo qua mi aiutava tanto Con quell'autoattacco Quell'autoattacco che avrei dato su Oh porca puttana Ok 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 No l'ho missato Oddio l'ho salvato con l'eal Madonna che culo Ah devo ricordarmi che ho questa eh Devo ricordarmi che ho questa E quindi devo usarla Non mi devo scordare di usarla Altrimenti è un casino Qua possiamo Possiamo prendere la torre Ma non c'è nessuno con me Oh mio dio È sempre la solita storia Oh Pensavo che Xerath venisse da me Vabbè my bad My bad My bad My bad Però Continuo a pensare che Ci dovrebbe Cioè Io penso Penso male Nel bene io penso male Eh no Ulti V Nel bene io penso male Perché penso sempre che qualcuno Stia Dietro di me Ad aiutarmi Ma in realtà Non c'è mai nessuno Qua era buono Prenderla torre Qua era buono Prenderla torre Non era buono Cesare la kill Somokai We need To take Objectives Not kills Ok Spero che l'avete capito Perché Sto game Sto game è una fan fiesta No No Mid tower Was free Io chased Maokai Quindi Non dire cagate Zed Non mi dire cagate Perché io ancora ci vedo E so bene cosa hai fatto Mamma mia Ma ancora la ulti Sono mortissimo Vabbè 993 di ulti Dai Ma cos'è Ma che cazzo è Oh Maria Che palle Avere Xena support Perché non posso avere un support normale Come tutto il mondo E' blank dal nulla Ragazzi Non abbiamo un world Cioè Che vi devo dire Non abbiamo un world A nessuna parte Mica l'ho itino Schiscia Ok Prova a guardare qua Anche se veramente ci muori Prova a guardare per favore Fai qualcosa Non so che dirti Mi sta tiltando sto game ragazzi Mi sta tiltando Perché Sto giocando con gente stupida Che non può farmi peeling Io sono costantemente da solo Da solo Da solo Da solo E una di carry Non deve mai star da solo Una di carry Deve avere il supporto Quello aiuta Perché altrimenti Non fa un cazzo Perché altrimenti Non faccio un cazzo Sai Ah Karma Io Non c'ho nessuno Lo so che voi Non volete che io Mi lamenti Ma ragazzi E' così Troppo Oh Attento che faccio un po' di danno Ah già C'ho la Ruin King Adesso un po' di danno Lo faccio Ho la Ruin King Un po' di danno Ora lo faccio Per esempio No Io vi faccio un esempio C'è una cosa bella qua No Sarebbe molto comodo Prenderlo E' un obiettivo So che voi non siete capaci Che non avete molto familiarità Con gli obiettivi Ma Ok Avcom per esempio Non piace quello che sto facendo Perché non è con noi Non si sa per qual motivo Oh Finalmente abbiamo preso qualcosa Ora fatemi andare Bottling Che ho Ho calato un po' il mio farm Ho calato un po' il mio farm Però dopo non ho chi Vabbè Che vedevo di Cioè Sai ha avuto vita facile Io per niente Sai ha avuto vita facile E io manco per il cazzo Mi faccio ancora questa wave E poi vado back Vado back a prendermi il red Ok Ah giusto Beh ovvio Of course Giustamente Vukong lo usa di più il red di me Giustamente Vukong ha più bisogno del red Va bene Sì comunque ho bisogno Della penetrazione Normata ora per forza Qua Non posso fare un cazzo Wow Cioè io l'ho tirata di là By the way eh Vabbè 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 Fa niente ragazzi Fa niente Peccato 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 davvero peccato Peccato davvero peccato Vabbè D'altronde il nostro late game Fa schifo eh Cioè In confronto a loro Abbiamo un iddly Abbiamo un iddly Che dopo un po' Non fa un cazzo Vabbè Che cosa devo dire Bad game Posso solamente dire Bad game Non mi è piaciuto Questo game ragazzi Ve lo devo dire Sinceramente Non mi è piaciuto Avevo pure spiegato le cose Ma non mi è veramente piaciuto Perché non è così Che si gioca Absolutely I wish To have A real soup And not Just One That won't kill Ragazzi Io Non so cosa dirvi Cioè Sicuramente non vi piacerà Perché Ho flammato Però Non è così Che deve giocare Un supporto Non è così Che un team Deve giocare Non è così Che un link Carry va lasciato da solo E ok che ci si deve adattare Ma così si perdono i game Comunque noi ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti